allora il fatto è questo siamo arrivati ad un punto in cui faccio un piccolo assunto per chi avesse visto solo questo pezzo siamo arrivati al punto in cui non si può neanche parlare di un servizio andato in onda sulla tv nazionale perché c'è la possibilità di ricevere dei messaggi su whatsapp senza firma intimidatori per quale motivazione per aver detto cosa visto che le uniche considerazioni personali sono state quelle fatte in testa a questa live relativa al nostro lavoro nostro lavoro in contestazione alla storia di bugalalla fasulla dove affermava cose fasulle sul nostro operato quindi cosa a che vedere con la faccenda m team nulla direttamente a che fare con delle cose che sono anche pubbliche c'è già quella parte interessato su youtube quindi di cosa andrebbe contestato fatemi capire ma io questo lo dico anche per rimarcare il discorso che abbiamo fatto con germano in relazione alla vicenda sabba non fatevi intimidire dalle liti temerarie basta con questa con questo giochetto dell'avvocato guerra addirittura messaggio su whatsapp da un numero estero alle 23 senza firma non fatevi intimidire da questa robetta perché la giustizia italiana fortunatamente almeno da questo punto di vista le prende e le archivia fanno perdere solo tempo noi tanto l'avvocato non lo paghiamo quindi fate o se lo paghiamo va bene lo pagheremo e se non lo paghiamo lo pagheremo meglio più soldi da investire nei prossimi boscher ok vai giallù no però aspetta ok no perché prima è stato detto in chat non è facile riprendere il filo voglio fare solamente una con un'istoria per poi andare in una scusa perché me l'ho scordato che hai stato interrotto prima vabbè fatto stare che ho visto in chat qualcuno dice voi avete mostrato apertura ad un contraddittorio anche a buga e chiunque anche zeppellini stesso in caso volessero intervenire però avete cancellato il vod davide vi spiegherà adesso la motivazione del fatto della non presenza del vod e forse la intuite tranquillamente visto che l'entità di quello che abbiamo visto adesso la la parte in cui ci stanno le riflessioni esterne al servizio delle iene al visionare del servizio delle iene saranno presenti su youtube o sbaglio allora certo certo noi abbiamo due copyright su tre quindi anche per non rischiare il ban esatto su twitch leviamo queste cose per prima avere l'autorizzazione della media set ma solo per un caricamento che è destinato su youtube qua per ragioni preventive e aggiungo un dettaglio un dettaglio fondamentale abbiamo comunque registrato la parte di reaction al servizio delle iene e lo abbiamo integrale non l'abbiamo registrato a caso no abbiamo registrato perché qualsiasi affermazione fatta potrà essere contestata da ciò che è stato detto quindi non abbiamo nessun timore poi chi ha visto la live delle 15 lo sa però noi abbiamo anche quello quindi non è un problema di pubblicazione l'unica parte che non c'è quella appunto che riguarda che non c'è al momento che non è al momento pubblica nessun twitch nessun youtube è quella che riguarda l'idea per un discorso di copyright ma quella parte la abbiamo noi ovviamente non è un problema non è un non problema a me oggi è successa pure una cosa particolarmente curiosa quindi sono un po scosso no perché ci avete visto che io ho tre numeri uno dei tre che anche quello mio di lavoro quindi può essere sta stato chiunque mi sono arrivati strani messaggi strane strane cose quelle che ho mandato pure a voi per pensate lo mandate pure a palle che è presente qui che sa tutto quindi non voglio entrare nello specifico e quindi è stata pure una giornata un po particolare che poi è pure il mio numero di lavoro quindi ma tra l'altro io succede perché mera successo soli non solo solo in altre occasioni però su su dei numeri diversi sai qual è il problema per chiarire anche per i più duri di comprendonio la reaction al servizio rientra nella dottrina del ferius batman che ancora qui nonostante ci abbia salutato al plurale diverso tempo fa oggi diceva una cosa sbagliata che dmca digital millennium act bla 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 copyright act esclude il ferius quando è una cazzata madornale perché chiunque sappia che cos'è la dottrina del ferius e non dico di riascoltare una delle mie volte in cui l'ho detto io però l'avvocato catania l'ha spiegato in maniera molto esaustiva quando parlava del tentativo di buttargli giù i video ecco è una dottrina che si entra proprio nell'ambito americano del copyright sorpresa sorpresa twitch è una piattaforma che si basa il copyright sulla legge americana e il ferius è quando per alcune eccezioni tu puoi usare del materiale coperto da copyright legalmente ad esempio se guardi una foto di un articolo di un giornale quella foto non è tua o del giornale o di chi l'ha scattata però se mentre commenti un articolo di un giornale guardi quella foto ed è utile a commentare la notizia esprimere la tua opinione a correggere o a criticarla già quello basta per il ferius poi ovviamente sarà difficile dimostrare che se io mi metto a trasmettere un film della disney nella sua integrità perché anche il tempo che usi è importante lì sarà molto difficile dimostrare che lo sto facendo per ferius ok a ripeto siccome c'è batman che anche su queste cose ne sa tanto e oggi scriva tanto ma sì ma se può entrare su disco no 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 te prego non fa sta cazzata non bannarlo te lo chiedo io non lo bannate ragazzi mai 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 ancora che ha scritto ma sapendo lì no no batman davide questa cosa qui non puoi concedere il numero che ti ha mandato il messaggio quello il numero estero prova a googlarlo un attimo senza dirlo ovviamente un memino vedi se è presente lo sto già facendo lo sto già facendo fare ma scusa batman devo riunire tutte le live un po un casino quindi non so se chitano scappa quando comunque batman se ancora qui hai tanto da dire entra e diccelo cioè sembra quasi puoi anche mettere un filtro per mascherare la tua voce se quello è il problema a me sembra che sia quello il problema perché di cose da dire nei tantissime esatto e scusate ragazzi fate finire un attimo il discorso a dev e aggiungo solo un dettaglio a quello che dicevi in relazione alla tempistica degli elementi visionati da noi live bugalala affermato ieri live che devono ancora uscire i suoi speciali e già in risposta e nella live delle 15 io ho detto vedremo anche quegli speciali a patto che ce lo permetta prego dave no no è tutto qua senso cioè semplicemente affermavo questo che che si è dato per scontato che noi non avessimo intenzione di vedere questa cosa ma semplicemente ne è stata fatta una visione ordinata in maniera cronologica rispetto a come sono uscite le cose prima uscito il servizio quindi loro daranno una risposta penso ribattendo punto su punto alle cose dette e illustrate nel servizio quindi quando questa risposta uscirà verrà visionata anche quella ma poi come è stato detto anche oggi nel momento in cui chiunque i soggetti interessati voglia fornire in questa sede la propria versione dei fatti perché no c'è stato detto oggi svariate volte e viene ribadito ho avuto la conferma del numero ok che so di chi è il numero mannaggia perfetto vabbè ottimo ragazzi chiudiamo con questa bella notizia è importante di dire questo no noi abbiamo iniziato a a parlarne oggi di questa cosa qua ok ed era già stato invitato l'avvocato poi abbiamo iniziato il servizio delle iene che abbiamo concluso con questa live poi abbiamo fatto questo piccolo segmento che state guardando oggi quindi il confronto con per noi solo con buca volentieri non è che uno deve far per forza una live dove ci stanno altre persone è stato un problema l'invito perché c'era pure l'avvocato ok uno ne prende coscienza però possiamo pure fare una live solamente con lei poi sta a lei dire sì o no uno potrebbe pure dire ma carico sta sul suo canale vuole vuole rispondere sui suoi lidi ok possiamo dire che c'è della disponibilità da parte nostra anche da andare ospiti sul suo canale e parlarne lì da parte mia assolutamente sì anzi lo vorrei tantissimo visto che sono accadute queste cose io vorrei avere un confronto pubblico con buca visto che è stata anche una mia amica eccetera 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 tutte le motivazioni che abbiamo detto prima ricevere l'aria io non posso non posso davide quindi non mette non me voglio ripete ci sono rimasto male ci sono rimasto molto molto male sul livello umano non posso dirlo non posso leggere il messaggio il contenuto ve l'ho detto più o meno tra le righe nel senso che è un riferimento a presunti procedimenti in bocca al lupo e non è il modo per notificare qualcosa dovreste saperlo parlo al plurale mandato una pec dato che è pubblica o attendete che la giustizia venga a notificarci il tutto basta con queste pagliacciate con queste pantomime va bene siamo in un paese civile e basiamoci sulle regole della civiltà non che mandati messaggini alle 11 di sera sui numeri privati senza firmarvi annunciando non si sa cosa fate quello che volete e poi chi di dovere valuterà ciò che è stato detto ciò che è stato eventualmente fatto e questo deve essere molto chiaro non è il modo di procedere e ripeto dovreste saperlo che queste cose vanno anche contro i vostri interessi in termini di procedure non è la procedura corretta fate la finita di utilizzare questo metodo intimidatorio come è successo anche con i video dell'avvocato catania fate la finita se dovete guerelare qualcuno per diffamazione lo fate ci sono le sedie opportune fate la finita